Buongiorno Micaela, buongiorno ai telespettatori, siamo in piazza Nove Martiri, luogo simbolo per la resistenza e la liberazione dell'Aquila. Tre cerimone oggi istituzionali nel capoluogo legate al Covid, vedrete le immagini. Si è cominciata in mattinata dalla villa comunale Corona di Fiori del prefetto Cinzia Torraco e altre autorità al monumento ai caduti per proseguire alla caserma Campo Mizi Pasquali dove ci fu la strage e l'ecidio dei Nove Martiri Aquilani il 23 settembre 1943 a cui è dedicato questa piazza con il sindaco Biondi, prima volta alle altre autorità, il comandante non reggimento Alpini, Laurencig. Infine alla frazione di Onna dove ci fu un ecidio nel giugno 1944, prima della liberazione della città dell'Aquila, 17 morti assieme all'ecidio di Filetto. Anche lì nella frazione deposta una corona di fiori al monumento alle vittime. Siamo con il presidente provinciale dell'Associazione Partigiani, Fulvio Angelini, un testimone da passare ai giovani. Oggi è il giorno migliore per celebrare la memoria di questi eroi, di questi martiri, di queste vittime, dai Nove Martiri a Onna a Filetto. Scelsero queste persone con la resistenza armata o con la resistenza umanitaria, senza imbracciare le armi, ma scelsero di stare dalla parte giusta 76 anni fa. E io credo che il modo migliore per onorare la loro memoria e la loro storia sia quella di provare a continuare ad essere partigiani oggi, e cioè di continuare a scegliere ancora oggi da che parte stare. E io penso che oggi, con le ingiustizie che crescono, le discriminazioni, le povertà, le umiliazioni, le violenze, le guerre, io penso che la parte giusta sia sempre quella dei più deboli, italiani o stranieri che siano, quelli che hanno più bisogno e per i quali i diritti della resistenza e della Costituzione ancora non divengono attuali. Grazie, adesso vediamo nel resto d'Abruzzo con la collega Daniela Senepa le altre iniziative. Poi linea allo studio.